Un allenatore psicologo, motivatore come Julio Velasco è sicuramente la persona più adatta per competenza, capacità, per guidare bene e risollevare le sorti di una squadra che può veramente vincere tutto. Beppe Cormio ci mostra i messaggi che si è scambiato in questi giorni con Julio Velasco dopo la sua nomina, commissario tecnico della Nazionale Femminile. Sono contento per te e per il movimento, lui mi ha mandato un abbraccio. Amicizia, stima e confidenza tra i due. Fu Cormio a portare Velasco in Italia nel 1983 a Iesi, due stagioni in A2 con una promozione sfiorata. Quanti anni aveva qua? Velasco? Ne aveva 32. Poi per Velasco gli scudetti a Modena e l'epoca incredibile con la Nazionale Italiana, due mondiali, tre europei, cinque World League tra l'89 e il 95. Un vincente e un innovatore, una fibra che già si vedeva dai tempi di Iesi. Frequentavamo allenatori di altri sport perché era proprio nel dialogo con altri allenatori, con altre mentalità, che lui sentiva crescere la sua idea di volley. Lui ha questo grande pregio, credo che lo abbia anche adesso, che l'età non è più quella verde di allora. Prende in mano una Nazionale Femminile che sotto la gestione del marchigiano Mazzanti ha collezionato successi ma anche recenti amarezze, con fratture nel gruppo. Per Velasco un ritorno, aveva già guidato le Azzurri alla fine degli anni 90 e una sfida per lui che ha allenato quasi esclusivamente squadre maschili. Non ho alcun dubbio che sarà un allenatore giusto nel momento giusto. Parigi 2024, dove le Azzurri andranno quasi certamente da ripescate il primo grande obiettivo, un oro che manca, quello olimpico, nella bacheca del volley italiano e in quella personale di Julio Velasco. Della cosa per la quale sicuramente lui lavorerà, io ho buoni motivi per pensare che saremo protagonisti, poi vincere è chiaramente un'impresa.